buonasera a tutti buonasera buonasera a tutti benvenuti aspettiamo che inizi a collegarsi un po di gente questo è ufficialmente l'ultimo aperitivo della fase 1 quantomeno vedo che sta iniziando ad arrivare un po di gente con calma vedo ormai riconosco vi riconosco dai piccoli simbolini che ci sono qua in alto ciao ciao Umberto a saluto Chiara che mi ha scritto Chiara Rosignoli che mi ha scritto in settimana è collegata da Berlino mi fa particolarmente piacere essere arrivato essere arrivato fino fino a lì purtroppo nelle prossime settimane avrei dovuto anche io essere a Berlino avevamo già pianificato organizzato e definito i dettagli del workshop di frammenti fotografia a Berlino che sarebbe stato non la settimana prossima ma quella dopo ma ovviamente non non si è potuto non si potrà realizzare vedo che state arrivando tutti per cui possiamo dire che possiamo iniziare allora volevo parlare di di qualche libro che avete visto anche sulle mie storie instagram che ho pubblicato questa settimana qualcuno ha già scritto per i prossimi sabato a da Monaco non davvero per i prossimi sabato non ci posso fare altro giorno no allora già che siamo già in tanti possiamo partire da questo presupposto per tendenzialmente la settimana prossima non farò l'aperitivo fotografico perché per le prossime due settimane mi concentrerò in modo molto molto importante sulla preparazione di qualche video per il canale youtube vorrei iniziare diciamo una serie dedicata ai grandi libri di fotografia quindi pensavo di realizzare alcuni video dedicati a the new west di robert adams american photograph di walker evans sleeping by the mississippi di alex hot di cui tra l'altro accenneremo qualcosa oggi bordemer di basilico cioè alcuni libri molto importanti più che altro per me quanto meno cape light di mei erowitz e questa idea mi è nata da essere stato chiamato in causa dal nominare sette libri di fotografia per me importanti e allora da questo mi è nata la voglia l'idea di approfondirli per le prossime due settimane cercherò di approfondire questi per cui la settimana prossima non ci sarà l'aperitivo fotografico forse faremo un'intervista su instagram ma vorrei diciamo prendermi un paio di settimane di pausa per sedimentare per studiare e per registrare dei video da caricare sul mio canale youtube quindi qualora non l'abbiate ancora fatto iscrivetevi al mio canale youtube che si chiama marco brioni fotografia iscrivetevi al mio gruppo facebook marco brioni approfondimenti sulla fotografia e poi volevo dirvi che sul mio sito www.marcobrioni.com ho caricato la libreria della quarantena ho caricato come mi era stato suggerito tutto l'elenco di tutti i libri che abbiamo citato negli aperitivi fotografici di queste settimane quindi se digitate www.marcobrioni.com slash libreria quarantena trovate tutto l'elenco che aggiornerò con i libri di cui parleremo oggi prima di partire con l'argomento che avevamo preannunciato volevo farvi vedere un paio di chicche che per me insomma è stata una settimana molto molto felice infatti non so se avete notato su instagram eccolo qui è arrivato slant di aaron schuman allora slant è un libro che è uscito l'anno scorso edito da mac e è un libro molto contemporaneo che è un po' la parola che si dice quando uno non ci capisce niente dentro cioè io ci ho capito poco fino adesso quindi diciamo che è contemporaneo no a parte gli scherzi per non mancare di rispetto al grande artista che è Aaron Schuman vi racconto un po' la genesi che sta dietro a questo libro Aaron Schuman è nato nella città di Amrest nel Massachusetts che è la città in cui è nata ed ha vissuto per la grande maggioranza del tempo grazie ma tutto questo lavoro ti sta facendo dimagrire no sono già dimagrito prima appositamente per che ormai ho intrapreso questa carriera video e quindi sono dovuto dimagrire e dicevo questo libro è stato realizzato a Aaron Schuman che viene dalla città di Amrest nel Massachusetts dove nacque e visse Emily Dickinson e l'omaggio è contemporaneamente il libro è un omaggio contemporaneamente alla figura di Emily Dickinson e appunto alla sua rima imperfetta che appunto in inglese viene chiamata Slant Rhyme e alla città di Amrest la genesi di questo libro è molto particolare Aaron Schuman quando va a trovare i propri genitori si accorge che sul giornale locale vengono pubblicati dei divertentissimi e a volte quasi surreali bollettini della diciamo dalla centrale di polizia li vedete qui no? cose di questo tipo ne leggo uno per esempio attività sospetta alle 5.53 pomeridiane una donna ha chiamato la polizia dopo essere stata approcciata da un fotografo nel centro che ha chiesto se poteva prendere se poteva farle una fotografia dei suoi piedi il fotografo non è stato poi localizzato mia moglie giustamente dice vi assicuro che Marco mangia effettivamente vi garantisco anch'io che è così quindi ecco un libro che raccoglie questo tipo di particolarità giornalistiche raccolte negli anni da Aaron Schumann dal giornale locale più precisamente da suo padre che poi li spediva ad Aaron Schumann Aaron Schumann ha selezionato i più particolari e poi ha pensato di affiancare a questi ritagli di giornali alcune fotografie che costituiscono così una sorta di ritratto ironico di questa cittadina del nord-est degli Stati Uniti ecco vedete guardate questa macchina che tutti noi riconduciamo all'immaginario di Ritorno al Futuro la DeLorean ma il libro foto dopo foto si presta ad abbandonare il registro ironico e entrare più in un livello di lettura diverso più legato a quella a quella cultura che viaggia un po' sotto traccia all'interno del sogno americano fatta soprattutto di notizie false e situazioni un po' surreali in senso negativo quindi è un libro sul quale io non ho veramente avuto modo di approfondire più di tanto lo farò sicuramente è un libro molto 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 complicato quindi vorrei avere poi tempo di guardarlo però siccome così è un libro molto celebrato durante questa quarantena perché è anche un libro di fotografie che Schumann ha realizzato proprio a pochi chilometri allontanandosi al massimo di qualche chilometro dalla sua città poteva essere un bello stimolo per la vostra fase 2 visto che non si può uscire dal comune vedete adesso lui magari dal comune un po' ci è uscito però si può fare si può fare qualcosa di interessante sicuramente lo riapprofondiremo voglio anche signalarvi anche qui aspettate che ci sono già fior fior di commenti vediamo un attimo Giovanni giustamente dice che mia moglie ha sempre ragione e quindi grazie Giovanni Marrozzini sei sempre hai sempre le parole giuste al momento giusto un altro libro che in tantissimi mi avete chiesto che cos'era e che per il quale devo ringraziare l'amico Alessandro Penso che mi ha messo in contatto con la casa editrice e con l'autrice perché non riuscivo a trovarlo è un libro di Justina chiedo scusa ai polacchi in ascolto Mielknikiewicz eccolo qua che dal titolo Ukraina runs throughout it cioè l'Ucraina che corre attraverso questo è un libro bellissimo adesso vi faccio vedere è fatto da due parti vedete c'è una copertina rigida bellissima con un vellutino qui che che è stupendo e è diviso in due parti che si vedono qui la prima parte sono delle interviste cerco di farvelo vedere senza distruggerlo sono delle interviste con dei ritratti legati più che altro a persone che in qualche modo sono state toccate più o meno pesantemente dalla guerra in Ucraina ora la carta obiettivamente non può essere della qualità di un libro della Mac questo è evidente però questo è un libro veramente molto molto bello la seconda parte sono invece vedete scene di vita all'interno appunto dell'Ucraina in cui diciamo la fa da da spartiacque da padrone chiamiamolo come si vuole il fiume Dnipro cioè l'autrice ha usato come come linea guida per il proprio lavoro il fiume Dnipro è un libro molto bello non è stato facile trovarlo quindi non so se riuscirete mai a trovarlo io magari vi metto il link come vedete qui c'è tutta la parte quando ci fu la crisi della Crimea queste sono fotografie realizzate dal 2014 a oggi e questo libro è stato diciamo inserito nella short list dei photobook awards che ogni anno del 2019 ovviamente che ogni anno vengono comunicati a Paris Photo ne ho visti altri tre che saluto Elisa che mi dice che l'immagine è rovesciata ironicamente ovviamente tutte le immagini le vedete rovesciate perché la telecamera frontale ribalta tutto nella versione su YouTube li troverete reti è stato ecco inserito ce n'erano altri tre che mi interessavano ma in questo momento sono introvabili anche per me quindi sono veramente introvabili però non demordo non demordo perché confido che ci possano essere delle delle riedizioni successive e il libro di cui volevamo parlare diciamo avremmo detto che di cui avremmo parlato vediamo un attimo Umberto ha esatto ha postato un link di ivorypress.com io l'unico problema che ho trovato è stato che quasi nessuno spedisce di questi editori che ce l'hanno spediva in Italia quindi tramite Alessandro Penso ho fatto un check illegale proprio infatti glielo ho detto che i miei amici mi insulteranno perché uso pusher di libri illegali ma il libro di cui dovevamo parlare oggi ma che ci dà poi spunto per parlare di un grande autore è L'ultima fatica di Alec Sott I know how furiously chiedo scusa agli amici inglesi all'ascolto I know how furiously your heart is beating ok io so quanto furiosamente sta battendo il tuo cuore ora è un libro è l'ultimo libro di Alec Sott è stato fatto appunto nel 2019 Alec Sott vanta nel 2019 15 anni di carriera quindi iniziare a parlare di Alec Sott parlando di questo libro è quantomeno ingiusto nei confronti di chi non ha mai sentito parlare suo malgrado e questo è un problema di Alec Sott Alec Sott è attualmente dire sempre il più importante è sempre un'affermazione un po' però diciamo è uno dei più importanti forse il più importante fotografo documentarista del mondo fa parte di Magnum ed è un indagatore del paesaggio geografico antropologico e sociale degli Stati Uniti in particolare del nord est degli Stati Uniti e è diciamo erede di quella tradizione che è partita ormai cento anni fa novanta anni fa con Walker Evans e ha visto passare nomi del calibro di Robert Frank Liefried Lander Meyerowitz insomma Stephen Shore Joel Sternfeld che tra l'altro è stato professore di Alec Sott da questi Alec Sott ha preso tanto vedremo e la prima fatica letteraria che il fotografo americano ha prodotto è Sleeping by the Mississippi questo libro che lo trovate tranquillamente ha un costo insomma non eccessivo per il libro che è è uno dei sette libri che ho pubblicato che sto pubblicando sul mio profilo facebook su appunto per i libri tra virgolette per me importanti poi vedremo c'è un altro libro oggi avrei stato incerto fino all'ultimo di Alec Sott ma ho deciso di pubblicare questo perché tendenzialmente è il primo e dà la cifra di quello che è poi l'autore Alec Sott e che poi si vedrà in molti altri suoi libri e che poi tornerà ad essere importante in quest'ultimo che ha fatto quindi prima di parlarvi dell'ultimo libro di Alec Sott io credo che occorra fare un passo indietro e il passo indietro lo facciamo col suo primo libro tutti noi siamo convinti che gli Stati Uniti abbiano due coste la costa est e la costa ovest in realtà ogni americano sa che gli Stati Uniti hanno tre coste la costa est la costa ovest e la costa del fiume Mississippi il fiume Mississippi adesso io mi sono mi sono fatto una schermata perché vediamo se riesco a trovarla ecco vi faccio vedere giusto per capire perché tutti noi abbiamo idea del fiume Mississippi come un qualche cosa che è legato alla Louisiana al sud degli Stati Uniti eccetera in realtà guardate nasce praticamente in Canada e attraversa per quasi 4.000 chilometri gli Stati Uniti interamente da nord a sud non interamente tutti gli Stati Uniti ovviamente ma per quasi tutta la loro lunghezza da nord a sud quindi per capire l'impatto che questo fiume può aver dato nel mondo americano nella società americana potrebbe essere significativo questo parallelismo voi provate a pensare qual è stato l'impatto per la società italiana per la cultura soprattutto italiana per l'industria italiana un fiume come il Po che è lungo 650 chilometri ecco voi moltiplicate tutto per sei metteteci dentro una sapete come fanno i cuocchi una spizzicata di patriottismo americano e ottenete il Mississippi e ottenete quanto il Mississippi ha inciso nella cultura americana su tutti penso anche Barry Finn che naviga il Mississippi assieme allo schiavo oddio adesso mi sfugge il nome Jim mi sembra Jim non mi ricordo chiedo scusa quindi il Mississippi come strada come autostrada d'acqua che collega diciamo e attraversa tutto il Midwest americano che è l'oggetto su cui la regione su cui Sot ha sempre posizionato il suo obiettivo un Mississippi che noi ci immaginiamo fatto di grandi spazi e grandi e correnti del sud degli Stati Uniti una grande foci acquitrinose eccetera ma in realtà nella sua parte iniziale presenta anche paesaggi di questo tipo e vi inizio e vi invito a iniziare a dare un'occhiata alla palette dei colori che è quello che caratterizza più di tutti la fotografia di Alex Sot ecco questa è una foto molto molto importante perché era stata scelta poi dal museo Whitney come cartellone della Biennale non mi ricordo che anno e questo diede poi immortalità assoluta a questa foto tra l'altro poi Alex Sot in un altro libro che poi vi indico parla di questa foto come una foto che oggettivamente per la sovra come dire per il sovraccarico visivo con cui si è si è proposta lo ha addirittura stufato però allo stesso tempo è una foto che lui ama ama profondamente ecco vedete questo questo personaggio che ama i modellini di arioplano guardate che colori pastello che colori tenui Charles esatto bravo Roberto una foto un ritratto proprio alla Alex Sot che lui che è maestro della sequenza affianca nella affianca per modo di dire perché lui non ama le fotografie affiancate al letto presente nella casa natale di Lindbergh sapete lì Charles Lindbergh il mito americano che effettuò la famosa trasvolata sullo spirit of St. Louis il libro si apre con una citazione di di Charles Lindbergh proprio legata al sogno infatti infatti il titolo Sleeping by the Mississippi è proprio un richiamo non tanto al fiume che c'è e inevitabile ma al come dire all'immaginario al sogno che il fiume porta con sé nei luoghi che attraversa e non è un caso che all'interno del libro si susseguono divani poltroni poltrone ma soprattutto letti tanti letti o persone nel letto o che o che intente diciamo a dormire a riposarsi ne faccio vedere alcune Alex Hoth su questa cosa ci ha puntato molto guardate questa guardate che fotografia Alex Hoth ha puntato molto su questo proprio sul sul letto come elemento su cui si può dormire per sognare per immaginare e il ruolo dell'immaginazione in questo libro è fondamentale effettivamente il fiume si vede molte poche volte all'interno delle fotografie è il ruolo immaginifico di quello che lui fotografa tra l'altro segnalo aspettate che devo leggere un commento che libro magnifico peraltro Soth poesia e leggere queste sue parole vanno abbastanza di pari passo secondo te ho sempre sostenuto che il parente più prossimo alla fotografia fosse la poesia per il modo in cui stimola l'immaginazione lascia allo spettatore la cune da colmare sì Soth è famoso per questa citazione sulla poesia io per quanto il mio parere possa assolutamente essere insignificante siccome di poesia conosco poco e niente preferisco non parlare di poesia ma mi piacerebbe mi piace di più fare un parallelismo con la letteratura comunque sono d'accordo con te sono d'accordo con Soth che contrariamente a quanto normalmente si possa pensare cioè il collegamento della fotografia sia più naturale con le altre arti visive quindi con per esempio la pittura il cinema la scultura il paragone ma questo ormai ampiamente assodato non è che lo penso io il paragone forse più calzante è quello con la letteratura con la parola scritta quanto meno poi indubbiamente la poesia è la forma più alta che assume la parola scritta e quindi posso essere sicuramente d'accordo con Alex Soth che conosce la poesia sicuramente meglio di me ma poi questo è un libro adesso andiamo avanti lo guardiamo perché è un libro eccezionale che fa dello studio della sequenza un punto fondamentale è qui che Alex Soth raccoglie il testimone da Walker Evans un Walker Evans che ha come dire elevato il concetto di sequenza fondamentale per trasferire trasformare delle normali fotografie documentarie in un vero e proprio stile fotografico documentario fotografie che abbiano quindi l'apparenza nel caso di Walker Evans di banali documenti singolarmente dicono poco ma è nella sequenza che si esaltano e questo io lo dico sempre l'obiettivo di una sequenza è quello di creare un valore che è superiore alla somma delle singole parti e in questo Soth è maestro inarrivabile ma lo ha studiato lo ha analizzato lui dice di essersi ispirato a grandi libri poi poi ne vedremo ne vedremo un paio guardate guardate questa foto lui è in questa riserva di indiana di Leech Lake e conosce Sheila la figlia del pastore e chiede di poterla fotografare e allora Sheila si mette la felpa del 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 suo college no ICC Itasca Community College la felpa ha tutte delle scritte e Sheila per mostrare queste scritte guardate come si mette una fotografia potentissima eccezionale e guardate Alex Hot cosa mette dopo questa foto un crocifisso vedete un crocifisso che poi è di fatto tiene su dei cavi dell'alta tensione guardate la gamba rotta insomma allora qui io vorrei un attimo fare un discorso più legato al linguaggio se l'America e i fotografi che hanno documentato l'America i grandi fotografi che hanno documentato l'America hanno una una caratteristica penso per esempio Walker Evans è stato un grande documentatore quindi la parola che lo caratterizza è documento il ritratto per esempio che diede Robert Frank è un ritratto caustico degli Stati Uniti tanto che il libro fu poi rifiutato non gli fu pubblicato in America nonostante la fondazione Guggenheim avesse pagato per per il viaggio che portò a questo libro ne sto pensando altri Stephen Shore potrebbe essere un ritratto epico dell'America così come Joel Sternfeld un ritratto un ritratto ironico un po' la Martin Parr per capirci che aggettivo possiamo dare a ad Alex Soth io penso che questo sia un ritratto fortemente disincantato l'America di Alex Soth è un'America disincantata quel ironico misto ad amarognolo che probabilmente non è nemmeno detto che lui volesse ottenere lui dice che guardando le foto di di Sleeping by Mississippi lui si diverte sempre tantissimo cosa che invece non accade con Niagara Niagara lui dice che poi lo vediamo dovete togliere dall'editing molto perché stava diventando un libro violento addirittura guardate questa immagine questa è un cimitero che si può vedere qua sopra adesso qui si vede poco però questo è un cimitero questa è una fotografia pazzesca veramente straordinaria guardate quella montagna che ricorda la montagna del purgatorio e guardate su cosa poggia tutto ecco Roberto Bianchi giustamente dice consiglio conversazioni intorno a un tavolo però sta spoilerando effettivamente tutte queste cose qua le trovate su questo libro di Francesco Zanoth conversazioni intorno a un tavolo è un bel libro è un libro che parte da un presupposto che Zanoth stesso definisce sbagliato cioè dice noi guardiamo le singole foto e commentiamo le singole foto ma non è pensabile fare questo con Alex Zanoth Alex Zanoth va visto e trova il suo meglio appunto nella sequenza io vado avanti guardate guardate questa foto è una foto è una foto che anticipa molto lo stile che poi sarà agrodolce e veramente al limite quasi anche lì del caustico che lui trova in Niagara adesso ci arriviamo anche a Niagara ma e poi ecco una cosa guardate questo ritratto questo ritratto è veramente eccezionale e poi ecco anche qui guardate questa oggi stamattina facevo un giochino l'ho pubblicato anche su Instagram guardate questa è una città una città fondata da un missionario francese all'inizio del 700 in cui c'è una chiesa è una città che ormai è una ghost town perché nel 1881 con la flood come si dice in italiano con l'inondazione del Mississippi praticamente venne sommersa quasi tutta tanto che addirittura il Mississippi cambiò il suo corso e la cittadina che era sul confine tra due stati passò da uno stato all'altro cioè da una sponda all'altra scusate il Mississippi guardate il quadro che c'è appoggiato qua dalla parte non si capisce tanto bene ma di fatto è un lago con una pinetta e una montagna e io appena l'ho vista non sono riuscito a non farmi venire in mente questa foto di Stephen Shore in Uncommon Places ora queste sono fotografie degli anni 70 perché praticamente si assomiglia tantissimo questo è un quadro il concetto di fare la foto di una foto non è è un concetto diciamo estremamente contemporaneo ma guardate come Alex Soth rappresenta il grande mito del paesaggio americano Ansel Adams guardate che poi è la copertina del libro quella che vedete appesa è una foto di Ansel Adams foto famosissima di Ansel Adams e guardate Alex Soth come diciamo si pone nei confronti di questo di questa fotografia poi il libro è sovraccarico lui stesso lo ammette di riferimenti guardate questa foto dove c'è una croce una bandiera americana e il fiume Mississippi dietro e questi sono operai che lavorano a volte molto spinti ripeto lui stesso lo ammette guardate questa foto dove si vede finalmente il fiume ma c'è questa barca questa barca che ricorda le avventure di Tom Sawyer e Huckleberry Finn questo veramente guardate è è un libro veramente eccezionale consiglio consiglio di 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 comprarlo perché non è un libro semplice e apparentemente uno guarda le foto e c'è la classica cosa del tipo vabbè ma che foto è e poi quando scopre ma che è stata fatta col banco ottico 20x25 ma che dietro c'è un ragionamento di un certo tipo che i riferimenti sono anche lì di un certo tipo non si può non capire la grande qualità guardate guardate anche questa guardate questa foto lei è è una prostituta che lui fotografa a Memphis ok ecco lui stesso dà come riferimento per questa foto una foto che c'è in Cape Light una foto che c'è in Cape Light di Meyerowitz una foto pazzesca anche questa straordinaria di Meyerowitz una delle poche foto in Cape Light insomma ce ne sono in realtà però sono pochi ritratti all'interno di Cape Light quindi capite come l'analisi di un libro di questo tipo è sempre non è sempre del tutto del tutto scontata e quindi va va approfondita quindi insomma non potevo parlarvi di Alex Soth senza cominciare dall'inizio purtroppo non ho tutti i libri di Alex Soth anche perché alcuni quello che ha fatto sugli eremiti adesso mi sfugge il nome costa tipo 2000 euro e mi chiedo perché visto che ormai stanno ripubblichando anche i libri di mia zia non ripubblichino quelli però ecco Alex Soth Sleepy Maddie Mississippi quella che trovate oggi è la terza edizione ovviamente però è un consiglio che mi sento di darvi non contento dello smodato successo che ha realizzato con Sleepy Maddie Mississippi Alex Soth si focalizza su le cascate di Niagara adesso il titolo si vede poco è scritto in vedete allora è interessante questo libro e richiede notevole sforzo ma per capire l'intento di Alex Soth o quantomeno quello che ha mosso Alex Soth nel realizzare questo libro che vi garantisco veramente è molto 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 importante molto molto da analizzare non semplice lui dice che è rimasto attratto dalle cascate di Niagara perché è il luogo in cui la stragrande maggioranza della gente va pensa vuole non della gente però la stragrande maggioranza della gente che va alle cascate del Niagara lo fa o per sposarsi o per suicidarsi cioè è un luogo che attira innamorati e aspiranti suicidi e già questo parallelismo tra matrimonio e suicidio è notevole però quando poi andiamo a vedere le foto lui dice che ha voluto fare un libro sull'amore e meno male perché diciamo non metto in dubbio che questo sia un libro sull'amore ma il ritratto di amore che esce da questo libro è abbastanza sconvolgente parte con la foto che qui vedete sulla copertina c'è un altro paio di foto prima scattate lui scatta nei motel scatta fa dei ritrati a delle copie che vanno lì per sposarsi fa delle fotografie a delle lettere dove ci sono delle lettere d'amore o delle lettere di aspiranti suicidi e parte con la cosa la foto diciamo più triste di un letto della prima notte di nozze che possa esserci sulla faccia della terra eppure guardate inevitabilmente la forma del cuore ritornerà per molte foto all'interno di questo libro ma guardate veramente l'atmosfera disincantata caustica che lui cerca di non cerca che lui trasmette e poi lui presenta una foto delle cascate niagara e questa cosa lui racconta una cosa che fa ridere tantissimo su questa foto cioè lui dice questa è la classica foto che tutti quelli che vanno a fare le cascate niagara fanno perché la foto si può fare solo da lì da quel lato delle cascate la foto si può fare solo da lì e e quindi dice trovo sorprendente che questa di questo lavoro sia la mia foto più venduta perché l'hanno fatto uguale tutti e quindi mi ha fatto ridere tantissimo perché lui dice perché dovete comprare una foto di alexot cioè se dovete spendere dei soldi per la foto di alexot compratevi una foto che anche marco brioni ha fatto uguale questa idea delle cascate anche lui la riporta poi anche in una delle foto che lui diciamo definisce tra le sue preferite ecco guardate guardate il vestito come se non sembra formare lo stesso cerchio delle cascate di Niagare questo velo che cade come un po' le cascate tra l'altro notate la gioia di questa donna che si sta andando a sposare così sempre per ribadire che questo è un libro è un libro sull'amore guardate anche questo autoritratto lo tengo lontano perché lì c'è alexot nudo e magari facebook potrebbe bannare il tutto guardate la tristezza di questa piscina a forma di cuore in un motel guardate guardate anche queste foto veramente alexot riesce a immortalare una realtà estremamente mi verrebbe da dire immaginaria ma non ovviamente è un controsenso ma una una delle situazioni che danno luogo poi a essere immaginate o a dare un'immaginazione il libro poi prosegue da un libro sull'amore diventa poi un libro che ha una connotazione sessuale molto 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 forte tant'è che una delle ultime foto che lui stesso la definisce così è questa dove vediamo un cavallo con diciamo il pene praticamente in primo piano ma guardate a sua volta il cavallo stesso costituisce un organo con i due cespugli dalle parti di fronte a questa simbologia secondo me c'è poco da dire il libro ne è intriso e i collegamenti tra una foto e l'altra si prestano ad essere guardate questa foto a proposito di cuore di amore ecco l'immagine dell'America e del cascato del Niagara che Alex Hott dà non è questo amore fiabesco che noi ci immaginiamo sempre in Niagara c'è questa foto che è molto interessante lui dice chiaramente che questa foto lui l'ha fatta per far vedere che lui era lì che quel bicchiere era il suo lui cita come esempio una foto di Robert Frank che noi abbiamo già visto quando abbiamo parlato di Robert Frank che è quella che lui che Robert Frank scatta a Butte in Montana Alex Hott dice se Robert Frank avesse voluto fare un panorama di Butte non avrebbe scelto questa foto lui sceglie di fare questa foto per far vedere che c'è lui dentro a quel a quel luogo in realtà io questa immagine di Alex Hott di questo bicchiere di whisky appoggiato sul tavolo mi ricorda e l'associo molto di più alle fotografie di American Surfaces di Stephen Shore dove Stephen Shore tutti i giorni fotografa quello che mangia quello che gli scontrini di quello che compra in questo viaggio infinito che Stephen Shore compie negli Stati Uniti tra l'altro nel libro c'è un posterino che fa sempre piacere quindi finalmente dopo tutto questo paneagirico siamo arrivati a parlare di quello di cui dovevamo parlare cioè I know how furiously your heart is beating Alex Hott non sta fotografando da un po' vi faccio vedere ancora il libro Alex Hott non sta fotografando da un po' e quindi un libro che arriva dopo un periodo di inattività si capisce che è di Alex Hott già dalla diciamo dalla carta che riveste l'interno della copertina perché è di questo rosa pastello che fa tanto Alex Hott e poi guardate sono poche foto sono 35 36 39 non mi ricordo foto guardate già la prima guardate che atmosfera è eccezionale veramente è un libro che racchiude ritratti a persone e luoghi che Alex Hott visita nell'arco di un anno è uscito l'anno scorso questo libro diciamo che l'idea di Alex Hott è quella di passare del tempo con le persone e poi a volte a queste persone o in questi luoghi in cui passa il tempo fa delle fotografie ce ne sono veramente guardate adesso non ve le faccio vedere tutte guardate questa che richiama molto il libro è molto più delicato di Niagara sono passati anche quasi dieci anni da Niagara il libro è molto molto più delicato non ha quegli eccessi che ha Niagara guardate questa foto se non vi ricorda quella di Robert Frank che abbiamo appena visto ecco un libro in cui Robert Frank eh sì buongiorno Alex Hott fa questi 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 affiancamenti che non non gli appartengono rimane pur sempre un libro di Alex Hott quindi va bene essere delicati ma ogni tanto scusate è un libro veramente grande quindi va bene essere delicati però rimane sempre un libro di Alex Hott quindi un bel Barbagian impagliato eh non vado avanti ve ne faccio vedere altre perché ce ne sono un paio che sono davvero eh guardate questa questa questo ritratto è pazzesco poi ovviamente dietro a ognuno di questi tratti c'è una storia molto interessante ehm c'è un'intervista alla fine molto lunga dove lui appunto spiega il motivo per cui ha realizzato questo libro guardate anche questa tra l'altro io mi sono riconciliato un po' con Alex Hott perché l'ultimo libro che aveva fatto prima di questo Songbook non l'avevo amato non l'ho comprato e non l'ho amato particolarmente più che altro perché lui per me è in questo momento il grande maestro del colore del ventunesimo secolo con questi colori così tenui così soffici questi colori pastello che eh sono caratteristici veramente suoi guardate guardate anche questo ritratto eccezionale un Alex Hott forse meno disincantato dell'Alex Hott di dieci anni fa anche se ripeto si tratta sempre di Alex Hott e quindi ogni tanto una zampata caustica e così anche un po' premeditata ce la mette quindi ecco tutto questo per dire appunto che questo libro secondo me ritorna sulla falsa riga di quello che è stato il lavoro di Alex Hott a colori vi ho appunto citato altri due libri vabbè ve li rimostro anzitré Cape Light e The Americans di cui abbiamo ampiamente parlato riparlato e poi ho citato scusate se mi sposto Uncommon Places di Stephen Shore questo veramente è un libro maestoso cioè adesso ci sono altre due settimane di fase 2 potreste tranquillamente passare tutte e due le settimane a guardare questo libro perché ci sono alcune delle fotografie più eccezionali che l'America abbia conosciuto di sé anche qui fotografie scattate col grande formato non cioè sono fotografie famosissime tra l'altro che guardate questa è molto molto conosciuta per esempio sono veramente fotografie importanti questo questo è un libro Uncommon Places che costa tanto ma vale tutti i soldi che costa perché veramente potete passarci settimane per 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 parlarne quindi abbiamo parlato di Alex Sott abbiamo parlato l'ultimo libro di cui vi avevo accennato è questo conversazione intorno a un tavolo è veramente è molto interessante adesso volevo cercare una delle citazioni che ecco parlando di di questa fotografia che vi ho fatto vedere sentite la posa e le scritte sulla maglia che citano alcuni passi della Bibbia legano fortemente l'immagine alla storia cristiana ricordo di aver chiesto a Sheila se potessi vedere cosa c'era scritto sulle sue braccia e allora lei ha fatto questo gesto io ho pensato oh mio dio è assolutamente eccessivo ma devo tentare adoro il fatto che le sue mani siano tagliate fuori dall'inquadratura oltre a quella bottiglietta di profumo proprio accanto alla Bibbia aperta e all'amplificatore che ho incluso incluso intenzionalmente nell'immagine nonostante costituisca un intralcio questa fotografia è stata scattata all'interno di una chiesa di una riserva indiana Sheila era la figlia del pastore aveva un viso così pallido da sembrare spettrale e quindi giustamente lui fotografa la figlia del pastore di una riserva indiana con il flash seppur un flash magari sfumato ed è diventa un viso pallido più pallido del pallido questo libro è interessante ma serve a crearsi così una un'entrata nei lavori di Alex Sotti io sono molto d'accordo con chi dice che i classici sono spesso molto citati e poco letti e questo è vero tantissimo per The Americans ma io penso che sia Sleeping by the Mississippi sia Niagara costituiscono dei classiconi per chi si occupa di fotografia documentaria evidentemente io in tanti mi hanno il libro di conversazioni super dice Beniamino Pisati ciao Ben super libro consigliatissimo per capire il sotto certo affiancatelo però all'acquisto dei libri perché spesso e questo io l'ho guardato per esempio quando ho riletto l'Iliade mi sono reso conto che da Simone Veila a tanti altri autori avevo letto tanto su chi aveva letto l'Iliade o meglio lo avevo fatto ma tanto tempo fa non mi ricordavo più niente non mi ero concentrato sull'opera in sé quindi direi che per cominciare sicuramente questo e Sleeping by the Mississippi possono essere un buon inizio per capire ripeto quello che per me è l'autore documentario ad oggi più importante più importante al mondo quindi spero di avervi dato dei dei riferimenti giusti vi ripeto che per un paio di settimane adesso faremo una piccola pausa seguitemi sia su Instagram Marco underscore Brioni sia sul mio gruppo Marco Brioni approfondimenti sulla fotografia su Facebook ma soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube perché nelle prossime due settimane creerò dei contenuti che pubblicherò sul canale mi concentrerò in particolare sui libri sui libri di fotografia quindi Sleeping by the Mississippi American Photographs di Walker Evans ve ne faccio vedere qualcuno American Photographs di Walker Evans New West di Robert Adams ce ne sono tanti che vorrei fare per esempio Bordemer un libro veramente meraviglioso che si trova tranquillamente grazie a te Marianne Marianne ci segue da Tunisi grazie ce ne sono veramente molti che vorrei Uncommon Places stesso Invasion Invasion di Kudelka gran libro insomma ce ne sono tanti vorrei focalizzarmi sui libri quindi mi pare ci sia in vendita un cofanetto con tre libri di sotto con alcune cartoline all'interno sì c'è una cosa del genere costa 20 euro non costa niente sono praticamente tre libricini piccoli che sono credo una riproduzione in parte o totale di tre libri e e poi delle cartoline per chi ama Sot io non ce l'ho perché tendo a comprare solo le cose utili però ecco infatti Lorenzo Zopolato dice attenzione a quel cofanetto i libri sono in versione mini è vero sono proprio dei mini librettini e poi ci sono delle cartoline io spendo troppi soldi in libri quindi tendo a comprare solo le cose utili e non le cose belle però quella è una cosa veramente bella niente non ho niente altro da dirvi se non di seguirmi ah il patata contest da lunedì potete mandarmi le foto per il patata contest qualcuno ha già iniziato a mandarmi le foto singole qualcuno mi ha già mandato anche un portfoglio di 14 fotografie quindi o la foto singola o un portfoglio di 14 fotografie poi in del tutto autonomamente quindi così come è stato scritto un uomo forte al comando l'uomo forte deciderò del tutto arbitriamente assolutamente antidemocraticamente sia il vincitore della categoria foto singola sia il vincitore della categoria portfoglio e ognuno dei due vincitori vincerà una mia stampa dal valore assolutamente inesistente però potete usarla come sottopentola che magari in quello è sicuramente utile quindi mandatemi le foto e ricordatevi che su www.marcobrioni.com slash libreria quarantena trovate tutti i libri citati in questi aperitivi fotografici vi ricordo che sabato prossimo non ci sarà l'aperitivo fotografico se in queste prossime settimane farò delle interviste ve lo dirò vorrei fare una puntata celebrativa dell'aperitivo fotografico quando finirà la fase 2 ma secondo me questa fase 2 che somiglia tanto a una fase una e mezzo anzi una e un quarto non lo so bene cosa succederà quindi restiamo in contatto ciao a tutti grazie davvero di aver passato due mesi assieme a me è stato un piacere e sicuramente ci vedremo prossimamente visto che sto preparando tante altre cose nuove se siete parte di un gruppo fotografico di un circolo volete contattarmi per proporre qualcuno di questi contenuti al vostro circolo anche via web non esitate a contattarmi io sono qua sono a casa non ho praticamente niente da fare quindi siamo qua e ci vediamo presto ciao a tutti